Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia. Il momento del nostro approfondimento quotidiano che oggi ci porterà, come abbiamo anticipato prima, a Muzzana, a Muzzana del Turniano che si prepara a una festa molto importante, la Fiera del Tartufo Bianco Pregiato. Trifule in fieste, questo è il nome dell'evento in programma nel fine settimana, un evento che valorizza una ricchezza del territorio, appunto il Tartufo Bianco. Ne parliamo assieme al nostro ospite in studio, Vittorino Gallo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Che è uno dei membri dell'associazione che riunisce gli appassionati di Tartufo a Muzzana, buongiorno e benvenuto. Grazie. Buongiorno anche a Monica. Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Ciao Monica, tra poco ci collegheremo anche con il nostro Davide Zanirato, proprio da Muzzana. Speriamo che le condizioni meteo ci aiutino oggi in questo collegamento. Vittorino, com'era la situazione a Muzzana? Ma stamattina era abbastanza bene, anche se c'era un po' di nebbia, comunque c'è sicuramente parecchia umidità per terra, come dice, diciamo una rosada abbastanza copiosa, però diciamo è nella norma in questo periodo. Nella norma, bene, bene. Un clima questo che favorisce la crescita dei tartufi? Ma soprattutto il fatto che quando comincia a diventare freddo, come in questo periodo, il tartufo migliora di qualità. Ah, bene, bene. Poi ci dirà qualche curiosità in più. Qualche curiosità stamattina. No, a proposito di maltempo, ricordiamo che sono ancora in corso le ricerche di Marino Zucchia, l'ottantenne, che proprio sabato, da sabato risulta disperso, sabato come sappiamo è una giornata caratterizzata da un ubifaccio, dal maltempo che si è abbattuto su tutto il Friuli, anche il drone ieri alla ricerca, dunque, di questo ottantenne. Proseguono, ci hanno confermato ovviamente i Vigili del Fuoco, le ricerche anche nella giornata odierna. E a proposito di Vigili del Fuoco, ci hanno dato anche la notizia di un tamponamento non grave avvenuto nella notte verso le 4, tra la Tisana e San Giorgio, nel comune di Porpetto per l'esattezza, un'auto ferma presso un cantiere stradale è stata tamponata da un camion, ma non ci sono stati feriti se non lievi. Questo per quanto riguarda il territorio, ci spostiamo poi sul sito ITG.com24 anche per un breve aggiornamento sulle notizie nazionali e internazionali. Le ultime che leggiamo riguardano innanzitutto un traffico internazionale di droga con almeno 45 arresti effettuati a Milano, Colombia a breve inoltre la firma del nuovo accordo di pace con le Farc e poi un altro titolo che leggiamo riguarda la Cambogia, confermato l'ergastolo a due leader dei Khmer Rossi. Questo per il momento. Il Bosco di Muzzana, un bosco che è antichissimo, è vecchissimo, è un bosco che ha una bella storia da raccontare. Diciamo che questo bosco è sempre esistito nel senso che fa parte dell'evoluzione di quella che era la bassa friulana, quindi il bosco che è nato dalla scomparsa dei ghiacciai che arrivavano veramente giù fino alla bassa e poi ha lasciato il posto, queste piante diciamo del freddo hanno lasciato il posto alle lattifoglie che sono adesso. Diciamo che questo bosco così com'è si pensa abbia 10.000 anni. Quindi è sopravvissuto alle varie glaciazioni? Beh, diciamo si è evoluto rispetto alle glaciazioni e poi soprattutto non è mai stato esboscato, quindi non è stato ripiantato e quindi ha questa fortuna di essere, di trasportare quelli che sono tutte le specie, le varie particolarità che riguardano l'evoluzione di questa parte della bassa. È una piccola gemma questo bosco nella bassa friulana? Certamente sì, assieme ad altri 5-6 residui che ormai vengono chiamati anche relitti che dovevano purtroppo si pensava dovesse lo scomparire anche quello, invece per fortuna in qualche maniera sono riusciti a salvare la pelle come si dice e hanno la capacità appunto adesso di sorprenderci con queste meraviglie che ancora stiamo cercando di scoprire. E li vediamo infatti anche in queste immagini, abbiamo visto prima alcune immagini del bosco, adesso vediamo i cani alla caccia di questi tartufi e poi alcune immagini appunto di Muzzana. Monica, a te. Stavo confrontando diversi siti che ci parlano, ci danno anche informazioni riguardo al bosco, ma il nostro ospite ci ha già anticipato le principali curiosità, vediamo anche il sito per esempio del Comune in cui chi volesse può approfondire le notizie riguardante proprio questo prezioso gioiello del territorio, ci sono anche poi spazi web a cura di un circolo culturale che appunto abbondano di notizie e in due aree in particolare di questo bosco vengono raccolti i tartufi diamante, punta di diamante di Muzzana, sul fronte no gastronomico, solo in questa area. Perché? Cos'hanno di particolare queste due aree rispetto alle altre? Allora, per quanto riguarda i due boschi di Muzzana, diciamo sono i posti dove si trova con maggior quantità. Ah, quindi le due aree sono i due boschi, pensavo due aree all'interno del bosco. No, 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 sono proprio due boschi che hanno più o meno le caratteristiche anche del bosco di Carlino, quindi il bosco Saccile, ma anche il bosco Boscardi Castions di Strada, ma anche Sarcinelli di Cervignano e anche quello di Torviscosa che è un uso civico della comunità di Villanova. Diciamo boschi planiziali, hanno la caratteristica sostanzialmente di avere queste piante che sono capaci di creare, di essere simbiontiche con questo fungo, questo micelio e quindi di creare questo benedetto tartufo che è lo stesso, come il tubermagnatum picco, è lo stesso che si trova ad Alba, che si trova a Aqualagna e che si trova in maniera molto molto abbondante in Molise, che è la Molise, non dimentichiamo, la principale produttrice, il principale produttore di tartufo in Italia e con scoperte anche giù in Basilicata e praticamente ormai Alba ha avuto la fortuna di scoprirlo per prima, è il principale crocevia mercato del tartufo, però sicuramente non è il più grande produttore. Non è il più grande, ha avuto la fortuna di essere il primo in questo caso. Dei due boschi di Muzzana uno è privato, giusto? Uno è privato e uno, esattamente. Ma nell'altro possono accedere tutti? Cioè tutti possono andare a raccogliere i tartufi? Allora la differenza è curiosa perché il bosco privato praticamente è libero, quindi nonostante sia privato non essendo recintato ed essendo il tartufo una specie spontanea praticamente non è possibile, se non si fanno degli interventi migliorativi che devono essere documentati, non è possibile riservare la raccolta al proprietario. Al proprietario che tra l'altro non si occupa diciamo in maniera forte di questo bene. Invece il bosco comunale, chiamiamo così, che è di proprietà del comune con uso civico da parte della popolazione, essendo questo uso civico interpretato come una proprietà da parte della comunità può essere e viene tutelato come uso civico, quindi la raccolta è riservata ai residenti e quindi diciamo paradossalmente il pubblico diventa privato e il privato diventa pubblico. Quindi solo gli abitanti di Muzzana possono andare a cercare i tartufi di questo bosco. Perfetto, vediamo se siamo pronti per il collegamento con l'Osmer Arpa, chiedo l'Umi alla regia. Abbiamo il collegamento? No, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con il nostro approfondimento in attesa di ricollegarci di nuovo anche con David. Dicevamo, Vittorino, che Alba è la località più nota per la produzione di tartufo, non quella che ne produce di più però. A Muzzana, quanti tartufi crescono? Diciamo sicuramente ogni anno ha la sua storia e possiamo così cercare di immaginare quello che possa essere il quantitativo che ne sale, diciamo che sale verso il paese e può essere dai 10 ai 15, credo non siano mai stati superati i 20 kg. Quindi è una quantità sostanzialmente limitata, il cui valore principale è il fatto di esistere, quindi il fatto che può qualificare in maniera, credo, estremamente positiva quello che è questo territorio e soprattutto la qualità anche di questo tipo di tartufo perché le particolarità rispetto ad Alba, rispetto ad Acqualagna dove il tartufo praticamente cresce in collina, dove anche il terreno ha un'altra caratteristica essendo un terreno marnoso molto più sabbioso e anche meno, diciamo così, forte da un punto di vista dei profumi e anche come caratteristica appunto di distribuzione della superficie possiamo dire che ci sono tre caratteristiche principali che lo contraddistinguono. Il fatto che sia in presenza di un territorio che confina con la laguna dove c'è una quantità salina importante, il fatto del sale quindi arricchisce in qualche maniera il profumo dello stesso e il fatto di essere pianeggiante dove c'è un letto molto importante di fogliame che dà origine ad un humus e quindi un terreno che è particolarmente profumato, basta sentirlo, basta raccoglierlo con le mani e anusarlo per capire la bontà anche di questo humus che rappresenta nella parola anche veramente la qualità di questo fondo e poi c'è la presenza molto molto a livello di infestante quasi, ma non è esattamente la parola con la quale si definisce la presenza dell'aglio orsino, quindi questo prodotto agliaceo che arricchisce ulteriormente questo fungo ipogeo che è della stessa, possiamo dire, con le stesse caratteristiche di un porcino però invece di crescere in superficie cresce sottoterra. E quindi diciamo queste tre caratteristiche lo rendono particolarmente interessante sulla tavola e possiamo veramente, noi che in qualche maniera sono anni che lo confrontiamo anche con altri prodotti arrivanti anche da oltre confine, ma certamente anche con il Centro Italia che Toscana, Sant'Angelo, mi vado nelle Marche ma anche un po' più giù ci aiutano in quella che è la fiera del tartufo perché adesso in questo fine settimana avremo questo, questo è importante, è la principale evento che viene fatto diciamo in regione per quanto riguarda il tartufo e appunto ci aiutano perché occorre avere del tartufo fresco da affettare, non si può pensare di... E vi danno una mano, non ce la fate con il solo bosco di Muzzana. Esattamente. Tra poco torneremo anche sugli appuntamenti in programma in questo fine settimana adesso però ci colleghiamo con i nostri esperti dell'Osmer Arpa per le previsioni del tempo buongiorno, dovremo avere in linea Arturo Puccillo, giusto? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Arturo, allora abbiamo visto che a Muzzana c'è un po' di sole stamattina la situazione nel resto della regione com'è? Cosa dovremo attenderci? La situazione è abbastanza variabile nel senso che abbiamo appunto questo flusso meridionale di correnti relativamente umide che determinano degli annuvolamenti, specialmente nubi basse e quindi abbiamo delle fasi, delle zone in cui è maggiore la copertura e delle altre in cui c'è qualche schierita, ma tutte le zone dovrebbero avere questa alternanza nel corso della giornata di oggi. Non mancherà anche qualche locale precipitazione, in realtà si tratta di piogge deboli previste specialmente sulle zone orientali della regione, in particolare verso l'Isontino e il Cividalese. Qualche foschia o banco di nebbia questa notte si è addensato sulla zona della pianura, poi tenderà a dissiparsi in giornata, ritornerà in maniera abbastanza sforadica tutto sommato questa prossima notte. Temperature sono piuttosto umiti, direi le massime oggi saliranno fino a 16-18 gradi su pianura e costa, quindi valori appunto piuttosto elevati. Anche la giornata di domani non sarà molto diversa, nuvolosità variabile, un po' più compatta la nuvolosità sulla pianura e sulle prealpi, qualche schierita in più sulle Alpi, in particolare l'Intervisiano e sulla costa. Ci sarà ancora possibile qualche precipitazione locale, debole o più moderata, specialmente sulle zone orientali della regione. Ancora temperature miti, con minime poco sopra i 10 gradi in pianura e poco sopra i 13 sulla costa, massime tra 16 e 18 gradi. Ancora umidità nei basi strati, quindi ancora qualche foschio locale banco di nebbia nelle ore notturne in pianura. Venerdì sembra confermato il passaggio di un fronte che dovrebbe determinare le precipitazioni un po' più appunto presenti, un po' più consistenti, moderate o abbondanti sulla regione, specialmente nelle ore della mattina, quindi poi il fronte dovrebbe passare nel corso del pomeriggio con un relativo miglioramento. Anche la giornata successiva, la giornata di sabato, sarà caratterizzata variabilità, ma la probabilità di pioggia a quel punto sarà meno presente. Grazie ad Arturo Pucillo per queste previsioni. Ti possiamo chiedere solo un'indicazione di massima per sabato e domenica? Sabato giornata tutto sommato variabile, ancora in presenza di un po' di durosità. Domenica sembra esserci qualche schierita in più. Forse poi dalla serata di domenica e dal lunedì potrebbe arrivare aria un po' più fresca, quindi cominciare a soffrire un po' di bora, anche se appunto è una previsione ancora incerta, quindi questo cambiamento poi dovremo confermarlo nel corso dei prossimi giorni. Quindi meglio aspettare ancora qualche giorno. Grazie ad Arturo Pucillo per queste previsioni, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Monica, a te. Sì, parlavamo prima ad Alba e io mi chiedevo chissà se a Muzzana si sta pensando di avviare un'asta mondiale del pregiato tartufo bianco di Muzzana come avviene ad Alba. Vediamo una notizia riportata proprio pochi giorni fa anche dall'Ansa di quest'asta mondiale del tartufo d'Alba. Si è parlato di un ricavato, tra virgolette, record per questa edizione di 450 mila euro. Andiamo a leggere perché insieme brevemente. Si è chiusa dunque con un ricavato di 450 mila euro l'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba. Giunta la diciassettesima edizione, i partecipanti si sono contesi. L'occhio a suon di offerte a Castello di Grinzancarvur, quindi nel Cunese, in collegamento satellitare con Philadelphia, Stati Uniti, Hong Kong, superata l'edizione 2015 che aveva raccolto oltre 287 mila euro e battuto il record storico del 2007 che era stato di poco più di 364 mila euro. Parte del ricavato sarà devoluto iniziative di solidarietà e poi si parla di questo lotto finale, un esemplare del peso complessivo di 1170 grammi che è stato conquistato da uno chef cinese dopo un'appassionante competizione per l'iperbolica cifra di 100.500 euro. Tutto questo è curioso e sicuramente anche il pregiato tartufo di Muzzana forse potrebbe ambire avere un'asta mondiale sul territorio, non lo so, cosa dite? Ma sicuramente è un obiettivo che per noi diventa abbastanza impegnativo, ambizioso e diciamo molto difficile. Alba è una città che è la patria delle eccellenze per quanto riguarda questo genere di prodotti, quindi cioccolato, tartufo, gelato eccetera. Noi ci accontentiamo di avere creato questa sensibilità, questo interesse verso questa parte della pianura dove ci sono parecchie superfici che sono destinate ad una cultura estensiva, il fatto di sorprenderci, di lasciarci sorprendere da queste meraviglie sicuramente sono esaltate anche dalla presenza di questo prodotto. Inoltre cerchiamo di fare anche questa fiera, questo appuntamento gastronomico con il quale si cerca di migliorare. All'interno di questo evento viene anche fatto un'asta, viene fatto un'asta a livello benefico e ci sono una ventina di lotti, comunque di piccoli pezzi che vengono battuti e che è molto interessante, molto diciamo così da vedere questo momento in cui i diversi concorrenti rialzano ma vanno a prezzi sicuramente superiori a quelli che sono ad alba diciamo come mercato, quindi si va tranquillamente sui 3-4 euro al grammo e questo perché si sa che alla fine il prodotto, anzi ricavato, viene devoluto in beneficenza. Quindi è un fatto che va premiato per i partecipanti soprattutto, per l'associazione che si dà da fare e soprattutto a beneficio di questo. Quest'anno sarà a favore dei terremotati, quindi ogni anno viene decisa. Eccola qua, vediamo anche il programma dal sito mozzanamatoritartuffo.it prevista le 17, quindi di sabato, quest'acqua del tartufo bianco di Mozzana. Esatto. Ma sul mercato quanto costa il tartufo in linea di massima? Il tartufo diciamo se facciamo riferimento a alba che è diciamo il top per quanto riguarda sia i prezzi sia anche possiamo dire anche la qualità, per quanto riguarda i volumi importanti certamente, possiamo dire che va dai due e mezzo ai quasi quattro, quindi diciamo siamo al grammo, sì. Però dobbiamo dire un'altra cosa che non è sempre per diversificare, per voler essere i migliori. Se avete visto la foto che compariva prima, il tartufo che è stato battuto all'asta, anzi meglio il lotto che era stato battuto all'asta, sono praticamente ancora, diciamo, così come vengono cavati dal tartufaio, dal cavatore e quindi sono ricchi diciamo di terra così come viene lasciata perché si dice, ma noi non condividiamo questo fatto, questa ipotesi, che il fatto di conservarlo assieme alla terra che in qualche maniera lo circondava sia un motivo per cercare di conservarlo. Invece il nostro obiettivo è quello di cercare appena raccolto viene pulito qui semplicemente con dell'acqua fresca, poi lo si asciuga e lo si conserva sicuramente molto bene con della carta da cucina, carta bianca insomma. E questo è poi quello che si cede a chi ha l'acquirente, quindi ci dispiace veramente pensare che quando si dovesse vendere ad un prezzo, non dico perché i nostri prezzi non sono quelli di Alba, ma vendere della terra a 1, 2, 3 euro al grammo, diciamo in qualche maniera ci disturba. E poi è una maniera sicuramente migliore per poterlo vedere, per poterlo individuare nelle sue piene caratteristiche, quindi l'aspetto superficiale, il profumo, sicuramente lo si apprezza meglio se è pulito. Se è bello pulito. Ma quanto dura un tartufo? Lei prima ha detto che è un po' come un fungo porcino. I funghi porcini hanno, cioè le periscono facilmente, velocemente. Il tartufo invece? Allora il tartufo dipende molto da come esce, da quando viene raccolto e che caratteristiche si trova. Perché può essere, diciamo così, appena maturato e quindi ha un profumo e una gleba, come si dice, perché molto spesso il tartufo è danneggiato appena lo si estrae. Perché vuoi perché il cane ci arriva con le zampette fino ad osso, vuoi perché si rompe in qualche maniera, vuoi perché è già danneggiato e perché ci sono degli insetti che lo mangiano appena comincia a profumare. E quindi può essere, diciamo così, di prima maturazione. Oppure può essere un po' avanzato, in stato avanzato di maturazione, in quel caso la gleba, la parte carnosa, è un momentino più scura di quelli di prima maturazione. Quelli che sono già in grado, diciamo, con grado di maturazione avanzata, si consiglia assolutamente di consumarlo subito, quindi uno, due, tre giorni. Uno invece di prima maturazione possiamo pensare anche che arrivi a una ventina di giorni. Però non è da rischiarsi molto perché occorre conservarlo bene, occorre verificare, non dico ogni giorno, ma sentire la consistenza proprio al tatto che non sia cedevole ma che sia ben duro, allora se è ben corposo e appunto con una buona durezza si può pensare di portarlo avanti ancora. Il fatto di raccoglierlo, pulirlo, metterlo all'asciutto con della carta, semplicemente un ambiente chiuso che può essere tipicamente un barattolino di vetro e conservarlo al freddo, quindi diciamo in un frigo a tre, quattro, cinque gradi, per i primi due o tre giorni sicuramente lo porta a migliorare la propria qualità. Dopodiché basta conservarlo, insomma, fino a quando ci si accorge che può in qualche maniera deteriorare. Certo, quindi comunque non più di venti giorni. No, no, assolutamente, ma proprio come limite estremo. Sono questi giorni, le settimane in cui si raccoglie il tartufo? Siamo nel momento più, nel momento migliore? Certamente. Il periodo di raccolta del tartufo bianco, il tuber magnatum pico, è previsto per legge, dalla legge regionale, dal 1 ottobre al 31 dicembre. Questo non vuol dire che in quel momento ci sia necessariamente, si trova quello che c'è. E questo fa parte, questo modo, questo comportamento, o meglio, questa legge, di dare la possibilità al tartufo che dovesse maturare prima, di lasciare le spore che poi sono necessarie per il proseguo di quello che è la crescita del tartufo negli anni a venire. Ed inoltre, nei primi pezzi, diciamo, che vengono ad essere maturati, non hanno delle caratteristiche di bontà come lo sono invece quelli della metà di novembre. O meglio ancora, se si riesce ad arrivare a dicembre, dove il freddo ancora intensifica questi profumi e che quindi rendono ancora il prodotto ancora migliore. Ancora migliore, perché ne esaltano la profumazione. A proposito della profumazione del tartufo, c'è chi dice che questa profumazione sia stata molto importante nei millenni anche passati, proprio perché catturava l'attenzione degli animali, il naso dei vari animali che quindi andavano sul tartufo, lo sgarfavano, così usiamo un termine molto caro all'ambiente udinese e quindi diffondevano le spore del tartufo, favorendone poi la diffusione. Questa è la tecnica che il tartufo ha sviluppato, o meglio, con la quale si è evoluto, perché il suo modo di muoversi, diciamo, non esiste altro che quello attraverso gli animaletti che lo mangiano, ma anche se c'è la possibilità che il micelio, praticamente in un anno, si dice, riesca anche a svilupparsi per una ventina di metri. Certamente un cinghiale o un topino o anche il lombrico o anche la volpe si dice che mangi questo, mangiandolo e quindi portano con sé le spore che camminano, diciamo, che quindi in qualche maniera colonizzano le parti più avanti. È così che non si sa esattamente da dove sia partito questo benedetto tartufo. Sta di fatto che va praticamente dalla parte più meridionale dell'Appennino italiano e cammina su fino alle Alpi, no perché rimane nella parte più bassa, ma ha praticamente colonizzato gran parte dei Balcani, quindi ce ne trova tantissimo in Slovenia, anche in Croazia, in Serbia, dicono in Romania, quindi ce n'è parecchio anche da quelle parti. Monica, ti segnalo questo interessante spazio dal sito dell'ERSA dedicato proprio alla tartuficoltura. Ci sono varie notizie anche riguardo all'esame di idoneità per la raccolta di tartufi, c'è tutto un percorso di effettuare ovviamente per poter essere abilitati alla raccolta e poi per chi volesse ci sono tanti anche materiali didattici sul tema dei tartufi, i vari pdf che vediamo se questo computer ci consente di aprirlo, non importa, comunque gli interessati da casa potranno agevolmente aprire e anche così avranno modo di approfondire ulteriori tematiche. Vi propongo anche delle curiosità, inoltre da un articolo proposto sul sito della stampa che parla del mondo segreto del tartufo, ha ispirato Plinio e Dumas, Rossini, Rasputi, Napoleone, tutte le città dove si raccoglie rivendicano il proprio primato e all'Alba i misteri e le tecniche della ricerca, li difendono così, ovviamente ci sono approfondimenti su Alba, però ci sono notizie storiche anche su come veniva considerato il tartufo, andiamo a cercarne qualcuna, per esempio per Plinio il tartufo era un callo della terra, per Savarene il diamante della cucina, per Rossini il Mozart dei funghi, secondo gli antichi saggi il loro abuso provocava malinconia, Rasputi non prescriveva allo zar Nicola e allo zare vice Alexei per curare l'emofinia e tra le varie curiosità si cita anche Napoleone e Marchese de Sade che ricorrevano al tartufo nei loro tenzoni amorosi, entrambi infatti lo consideravano un afrodisiaco eccezionale. Ecco, e poi ovviamente potremmo continuare per ore, tanti miti anche, ce ne sono anche più antiche, queste sono alcune ovviamente, attorno al tartufo. Io direi Monica di fermarci adesso un attimo per la pubblicità così poi saremo di nuovo assieme per l'ultima mezz'oretta anche con collegamenti da Muzzana, tra poco ce la facciamo, rimanete con noi. Eccoci di nuovo insieme per questa terza parte di Buongiorno Friuli dedicata oggi alla Fiesta dei Trifule in programma nel fine settimana a Muzzana del Turgnano, la festa del tartufo, ne parliamo assieme a Vittorino Gallo dell'associazione Muzzana Amatori Tartufo che è qui con noi oggi, ne parliamo anche assieme a Monica Nardini, ciao Monica, dicevamo prima del, parlavamo durante la pubblicità dei cani che vengono utilizzati per questa caccia al tartufo, sono dei cani particolari Vittorino, delle razze particolari oppure no, tutti i cani possono essere se adeguatamente addestrati utilizzati per la ricerca del tartufo? Certamente, la risposta è certamente sì, anche se dei cani che sono tipicamente ormai diciamo costruiti o pensati per stare in salotto sono più difficili da portare in bosco dove invece l'ambiente è abbastanza selvaggio e quindi un cane deve essere agile, deve essere pronto a sporcarsi, deve essere pronto a lavorare e quindi i cani da guardia tipicamente non vanno bene, i cani da compagnia di piccola taglia lo stesso non vanno bene, vanno bene i cani da cerca, quindi dedicati sostanzialmente alla caccia e alla caccia anche lì bisogna un po' distinguere, il fiuto sicuramente è una caratteristica che il cane ha e che non serve delle selezioni particolari, invece deve essere molto, si deve essere molto attenti principalmente a quello che può essere il carattere della bestiolina prima di portarla e di finirla di addestrare per poi utilizzarla in bosco in quanto il cane deve essere sostanzialmente poco permaloso, deve essere curioso, deve essere anche obbediente. Poco permaloso perché? Perché se trova il tartufo e poi noi lo portiamo via? Perché principalmente quando gli si insegna non deve aversela male come si dice e quindi deve reagire in maniera positiva, non deve andare a nascondersi se lo si sgrida qualche volta. Per il cane la cerca, almeno così come molto spesso si cerca di fare con lavori di questo tipo, deve essere un gioco, non deve essere una tecnica diciamo forte, pesante e anche se quella diciamo in diverse parti d'Italia viene utilizzata per avere dei cani molto potenti perché giù diciamo in queste parti la cerca del tartufo è qualcosa di molto remunerativo e anche di forte competizione con gli altri cercatori. Quello che abbiamo visto e quello che stiamo facendo a Muzana praticamente stiamo utilizzando dei cani lagotto che sono dei cani da acqua. Che sono quelli che vediamo anche nelle immagini appunto. Sono dei canetti che sono molto adatti a rimanere in un ambiente rustico, in un ambiente abbastanza selvatico come è quello del bosco, sono molto affettuosi, stanno anche molto vicini al padrone e quindi si riesce a lavorare con molta tranquillità. L'addestramento è fondamentale, un cane non nasce imparato come dicono da altre parti e quindi occorre un addestramento abbastanza lungo perché si parte già da prima che il cane nasca, quindi si dà già alla cania gravida del tartufo e poi si continua con l'allattamento del tartufo. Prima che nasca ancora! Addirittura sì. E quindi questo fatto è necessario per avere poi una sensibilità da parte del cane verso questo prodotto. Che lui lo vede? L'addestramento completato intorno al terzo o quarto anno, è corretto? Ma no, diciamo, la perfezione, la perfezione certamente, diciamo che il massimo un cane lo dà dai tre agli otto anni, questo sicuramente perché un cane a quel punto è adulto, ancora forza, nel pieno dell'attività. Un cane può essere considerato già, non dico formato, ma già il grosso dell'addestramento può essere già pensato quando ha cinque o sei mesi. Quale è che in passato in alcune zone venivano usate, non so se sono usate tuttora, anche i maiali? E questa è una bella domanda. Ci spieghi. Allora, io posso solamente dire che io non ho mai visto nessuno andare a cerca del tartufo con il maiale, anche se posso leggere e cercare di capire che cosa può succedere con un maiale. Un maiale, innanzitutto, di grossa taglia, mi viene da ridere, a pensare di portarlo in bosco, di dargli degli orini per cercare. E soprattutto se dovessi... Maialini, ecco, c'è Wikipedia, ma Wikipedia ovviamente è le fonti... Dei maialini, però... Sono aggiornabili, per cui le prendiamo con le pinze. Tradizionalmente la raccolta era compiuta impiegando un maialino. Il problema in tale metodo si fa giustamente presente che il maialino è il ghiotto di tartufio, quindi dunque trattenerlo per impedirgli di mangiare ritrovato. Ora, appunto, non so se ancora lei ha notizie. Allora, per quanto riguarda la ricerca del tartufo attorno alle piante nelle quali viene portato, coltivato, credo che possa essere abbastanza facile, abbastanza verosimile. Quindi in queste situazioni posso crederci. E per quanto riguarda il tartufo in bosco, ripeto, è una cosa che mi fa sorridere, mi piacerebbe vederla. Soprattutto anche a convincere poi il maiale a non mangiarsi il tartufo, forse è la parte più difficile. Siamo pronti adesso a collegarci con Davide Zanirato. Ve l'avevamo promesso, ce l'abbiamo fatta. Allora, Davide, dal bosco di Muzzana a te la parola. Con Daniele Gallo di Muzzana del Turniano ci siamo inseriti in questo bosco per iniziare a provare a cercare i tartufi. Ci racconti, innanzitutto, quali sono i trucchi segreti per iniziare questa avventura? I segreti secondo me sono due. Un buon cane e un buon paio di gambe. Per il resto, guarda, il cane ti porta dove è il tartufo. Non ci sono problemi. A proposito di cani, che razze sono queste? I nostri sono il lagotto romagnolo, tutti e tre. Infatti provengono dalla stessa cucciolata, sono sorelle, tre femminuzze. Quali sono le caratteristiche di questo sottobosco? Le caratteristiche? Ma, diciamo, con precisione, io le piante del sottobosco non le conosco. Conosco le piante, diciamo, in elevazione, quelle e quelle, le alte. Quindi abbiamo la quercia, abbiamo il frassino, l'olmo e il no solo. Ecco, quelle sono le principali, le principali, diciamo, piante, piante del bosco. Il sottobosco non lo conosco, ecco, con precisione. Però vedo che siete dotati di un'arnese particolare. Come si chiama e di che cosa si tratta? Ma noi lo chiamiamo lo zappino, ecco, serve. Quando il cane ha individuato il tartufo, serve per scavare. È una vanga, una vanga, ecco, una vanghetta. Quanto in profondità si trovano i tartufi solitamente? Ma, guarda, abbiamo trovato del tartufo in superficie, come abbiamo trovato del tartufo a una profondità anche di 40 centimetri. Allora, in questo caso, cosa succede? Succede che il cane lo individua e noi dobbiamo così sentire, odorare la terra, perché il tartufo emana il suo profumo. Dobbiamo sentire l'odoro della terra e piano piano, con il cane, ecco, dobbiamo scavare e individuare dov'è il tartufo. E estrarlo, ecco. Ecco, dunque, queste erano le immagini del nostro David Zanirato, direttamente da Muzzana. Tra poco ci collegheremo di nuovo con lui, mentre vediamo appunto che proseguono la loro camminata nel bosco. Monica, a te. Parlavamo del cane, no? E volevo riproporvi anche questa curiosità a Sant'Angelo Invado, l'unico monumento al mondo intitolato al cane dal tartufo. Nella città dove un quarto degli abitanti, questa è una notizia del 2013, sono cavatori di tartufo, si è voluto così ricordare il cane, il miglior amico dell'uomo, che lo accompagna anche nella ricerca del prezioso ottupro. E in merito appunto a questa notizia riguardante la provincia di Pesar Urbino, una cosa scandalosa, su cui faccio riflettere anche il nostro ospite, è che in veri e propri casi scatena anche una guerra del tartufo. Prima si accennava, ovviamente c'è grande attenzione anche nella raccolta, non lasciarsi scappare questi preziosi tartufi. C'è la guerra del tartufo e i caduti sono cani. Questa è una notizia del novembre del 2015, del giornale. Il pregiato tubero nel 2015 scarseggiava, così viene riferito, e cacciatori senza scrupoli hanno anche avvelenato i quattro zampe dei colleghi per non avere concorrenza. Se arriva anche a questo, è terribile. Questa è una cosa inconcepibile e certamente quando si ha a che fare con dei braconieri è possibile che ci sia di tutto, insomma. Questa è una cosa che, ripeto, per un hobby non può avere assolutamente nessun senso e sarebbe veramente da colpirli in maniera forte perché non è ammissibile che poi i cani che sono degli animali veramente dolcissimi e soprattutto amici dell'uomo debbano essere colpiti in questo modo. Si parlava della simbiosi, della simbiosi magnifica che si crea, no? Bisogna appunto cercare una cosa bella che riguarda il tartufo, che attorno al tartufo si parla di simbiosi. Simbiosi perché il tartufo stesso nasce in simbiosi con le piante, quindi attraverso il loro meccanismo è di utilizzare la linfa delle piante più grandi che gli danno le sostanze per poter crescere, ma poi per la cerca c'è la simbiosi, chiamiamo così, o collaborazione fra padrone e cane ed infine il tartufo in cucina non viene mai utilizzato da solo perché non si mangia il tartufo sul pane, per dire, ma viene sempre accoppiato a qualche cos'altro che appunto utilizza i suoi profumi per arricchire, per fare il piatto veramente migliore. Quindi queste tre, diciamo, possibilità che sono tutte legate dalla simbiosi fanno sì che il tartufo sia veramente un elemento di unione ed è bello pensarlo in questo modo. Questo è un messaggio che lanciamo a discapito di questa notizia. Negli altri casi è una vera caccia a dir loro, in questo caso non si può parlare di passione, come ha detto lei all'inizio. Una passione che ha unito, quanti anni fa, Vittorino, tanti amici di Muzzana che hanno dato vita a questa associazione Muzzana Amatori del Tartufo. Allora, la Muzzana Amatori di Tartufi è nata nel 2005 e il nome è Matt, Muzzana Amatori di Tartufi, appunto deriva... Che furano significa pazzo. Esattamente, è stata scelta volutamente perché all'inizio si diceva guardate che a Muzzana c'è il tartufo bianco pregiato e si diceva tu sei smat. Allora benissimo, siamo Matt e siamo nati anche con questo nome un po' curioso che vuole un po', come dire, far ridere attorno a questo simbolo. E' nata questa associazione perché ha voluto da subito essere un qualcosa di trasparente, di evidente e dare la possibilità a tutti quelli, soprattutto i muzzanesi, di poter cercare, di poter utilizzare e beneficiare di questo prodotto perché abbiamo le potenzialità per poterlo fare. E sicuramente credendo in quello che può essere anche un motore sia di tutela del bosco stesso sia anche per quanto riguarda delle caratteristiche di miglioramento, per quanto riguarda, chiamiamola così, l'offerta, ma anche l'attività, possiamo dire, di imprenditori che possono pensare di lavorare nella ristorazione o anche di poter utilizzare questo prodotto come elemento di attrazione e anche di stimolo verso quello che è una terra che sostanzialmente ha delle caratteristiche agricole ma diciamo di qualità non sicuramente eccellente come il tartufo invece ha la possibilità di poterlo. Esatto, è un valore aggiunto davvero importante per il territorio. Torniamo dal nostro Davide Zanirato che vedo in compagnia di un altro amatore del tartufo. A te, Davide. No, non ce la facciamo. Allora, a tempo reggiamo ancora un attimo Monica. Questa bella fotografia dal sito proprio dell'associazione Muzzana Amatore di Tartufo che vede coinvolti in un'operazione Bosco Pulito del 2007, proprio stava parlando dell'impegno anche alla salvaguardia del bosco e poi navigando assieme per il sito dell'associazione ovviamente oltre ad avere informazioni sulla prossima edizione di Triful in Fiesta voi proponete, ah, piccolo particolare appunto il logo col cane dell'associazione, vero? Certo. Per ritornare in tema. Proponete poi anche tante curiosità, vediamo se riusciamo a visualizzarle meglio per quanto riguarda le ricette, oltre a curiosità sul bosco, sull'attività di addestramento del cane andiamo per esempio sul fronte anche ricette, giusto perché non sono qualcuno in attesa del prossimo collegamento ne proponete diverse, a me viene già fame, anche se siamo mattina presto, come la patata ripiena la patata sgrionfade, se lo prego correttamente e poi ovviamente ci sono comunque vari approfondimenti e fate ovviamente il punto sul tartufo come sia il re delle tavole e poi parlate di uova scroccone tra le varie curiosità tagliate al tartufo, filetto al tartufo, insomma chi volesse ha modo di divertirsi anche sondando le varie curiosità che proponete ovviamente all'interno del vostro sito anche perché è importante cucinarlo bene questo tartufo, o meglio anche non cucinarlo però insomma usarlo nel modo migliore perché altrimenti si rischia di mandare in fumo il lavoro che c'è stato per la ricerca del tartufo e si rischia di sprecare diciamo così una materia prima di ottima qualità Vittorino ricordava prima anche l'attività che la vostra associazione fa per la tutela e la valorizzazione del bosco ovviamente la vostra passione vi spinge anche a proteggere e a tutelare quella che tra virgolette è un po' la fonte del vostro divertimento diciamo così, è importante anche questa attività cosa fate in particolare? Allora, lo scopo dell'associazione è nato appunto principalmente per utilizzare il tartufo come elemento di valorizzazione e di tutela del bosco quindi non dimentichiamo che la tutela del bosco diventa ancora prima dell'utilizzo del tartufo a Muzzana siamo molto consapevoli del bene che abbiamo e questo bene è arrivato, è giunto fino ai giorni nostri semplicemente possiamo dire grazie a quelli che sono stati i nostri avi che hanno saputo con il loro lavoro, con la loro intelligenza, con il loro sudore saper trarre beneficio da questo bosco conservandolo questi boschi si conservano e questo qui è un modo anche di pensare che qualche volta trova delle osservazioni da parte di qualcun altro ma comunque quello che è sicuramente successo in passato è stato conservato utilizzandolo utilizzandolo in maniera intelligente quindi veniva praticamente tagliato in momenti precisi a cadenze stabilite per cercare di rinnovarlo continuamente questa l'associazione ne è consapevole sappiamo del lavoro che è necessario fare e sappiamo anche che per poterlo tutelare è bene conoscerlo quindi bisogna avere un rispetto verso questo bene senza portarci sopra una pressione che può essere eccessiva parlo di pressione perché oggi si pensa ad una valorizzazione di tutto ciò che ci circonda ma non sempre una valorizzazione passa attraverso una conservazione quindi il fatto anche di dire che su questo bene ci sono diverse particolarità e che queste particolarità vanno conosciute e poi eventualmente studiate in relazione al passato che hanno avuto cercando di intravedere quello che può essere un futuro che sicuramente va visto anche in una chiave economica però la chiave economica sicuramente turistica economica intesa proprio in questo senso è un passaggio che deve essere fatto con le dovute cautele ecco la popolazione di Muzzana ha sempre utilizzato ripeto questo bene dal punto di vista forestale quindi si è in qualche maniera cresciuta nei secoli questa capacità di poterci lavorare sopra adesso questa caratteristica sta scomparendo perché si pensa di tutelare in maniera più naturalistica e quindi pensare che il bosco in qualche maniera evolva e si conserva in maniera spontanea e naturale io non sono assolutamente di questa idea le leggi che normalmente a partire dall'Europa stessa danno queste indicazioni anche tanti pensieri naturalistici sono verso questa direzione sicuramente tutti parlano di sostenibilità e di biodiversità io posso tranquillamente sostenere che la biodiversità è di gran lunga superiore in un bosco che viene ceduato con intelligenza piuttosto che in un bosco che viene mantenuto in maniera naturalistica ecco questo è il mio pensiero con il quale non trovo l'accordo con tanti concittadini ma essendo un bene di uso civico dove gli interessi sono di diversa natura è bene che tutte le voci possano essere ascoltate, essere sentite, meditate e poi alla fine qualche cosa anche si farà certamente ma sperando che comunque il bosco sopravviverà credo alle nostre in qualche maniera paturnie da qualsiasi posto esterno e che resista altri millenni Davide vediamo se ce la facciamo adesso dalla regia mi danno l'ok dovremmo essere pronti il segnale dovrebbe reggere a te la parola Giovanni Del Giulio quando è iniziata la passione la scoperta di tartufo in questi boschi? Ma ufficialmente nel 2001 però il tartufo è sempre stato in questi boschi noi abbiamo capito un po' tardi di queste pepite diciamo, chiamiamole così perché ce l'ha scoperto il dottor Gregori che ha gli studi a Sant'Angelo in Vado sotto incarico della regione hanno fatto questa ricerca su tutti i boschi cominciando da Tarvisio quando sono arrivati nei nostri boschi qua hanno capito che proprio c'era il tuber maniato un picco di lì ci siamo mossi abbiamo fondato un'associazione chiamata MAT Musana Amatori Tartufi in conseguenza abbiamo comprato i cani vi siete organizzati? ci siamo organizzati in questi ultimi anni abbiamo fatto le fiere del tartufo il prodotto ha iniziato a farsi conoscere in giro per quanto riguarda le caratteristiche ci raccontava prima è stato certificato che questo è un tartufo bianco pregiato tra i più vicini al mare come dislocazione esattamente sono dei boschi pianiziali hanno queste caratteristiche quanti mediamente si ne possono trovare in una stagione? ma abbiamo fatto delle stime si ricavano quei 6-7 chili diciamo ma in tutti i cavatori quanti in tutto siete? siamo 7-7 cavatori 6-7 cavatori il tartufo più grande che avete trovato in questi anni? quanto pesa? io ne ho trovato uno da 125 grammi miei nipoti qualcuno migliore anche se è più grossetto ok grazie allora David Zanirato il collegamento si è interrotto ci scusiamo oggi ma purtroppo la linea non è ottima la linea telefonica non è ottima a Muzzano e quindi nei pressi del bosco poi ovviamente in paese sarà sicuramente migliore tra l'altro David tra poco si sposterà proprio a Muzzano e andremo a vedere anche dal vivo in diretta alcuni di questi tartufi dicevamo prima Monica eravamo rimasti all'associazione ai numeri di questa associazione quante persone riunisce l'associazione? diciamo che l'associazione adesso va su un centinaio di persone all'incirca diciamo il numero è flottante perché ogni anno deve essere rinnovata sono uniti appunto dall'interesse verso il tartufo principalmente dal punto di vista gastronomico noi non ci impegniamo con nessun socio a fornirgli o dargli un quantitativo di tartufo importante perché non è nelle nostre possibilità anche se un occhio di riguardo ce l'abbiamo e pensiamo di trasferire tutto questo attorno alla fiera della festa appunto dove i soci si sentono in qualche maniera i principali partecipi di questo evento oltre a questa fiera ovviamente all'attività intorno al tartufo e di salvaguardia del bosco avete anche organizzato in passato delle attività che hanno coinvolto anche dei cavalli perché vediamo delle foto bellissime non so se si riescono a visualizzare bene dal sito dell'associazione le vediamo assieme sono meravigliose sono molto suggestive quindi avete proposto questo giro con questi cavalli di duco sembrano molto particolari io personalmente non conosco molto le differenze ma sono molto accattivanti anche in contesto ovviamente dei boschi di Muzzana li scorriamo magari assieme cosa è avvenuto in particolare allora questa qui è stata l'idea di poter ricostruire o comunque cercare di valorizzare quello che era il lavoro dei boscaioli fino a diciamo qualche decennio diciamo diversi decenni fa ma il lavoro veniva effettuato praticamente con degli attrezzi a mano e l'esbosco quindi il trasporto della legna veniva effettuato utilizzando i cavalli e si è fatto appunto nel 2006 nel 2014 questa ricostruzione praticamente di questi lavori utilizzando questi cavalli questi TPR che sono del signor Ilario il cognome adesso mi sfugge che comunque sono venuti appunto a effettuare queste riprese e questi cavalli veramente meravigliosi del tiro pesante e rapido quindi i cavalli che sono espressamente utilizzati per questo genere di attività questi qui sono particolarmente ben tenuti ben bardati ed è stato veramente uno spettacolo anche le persone che hanno partecipato hanno voluto in qualche maniera dare una testimonianza perché ormai questi lavori sono ormai scomparsi praticamente quindi un'ultima possibilità un'ultima chiamata abbiamo voluto renderla renderla appunto fissa fissarla su dei documenti che hanno portato alla realizzazione di questo video di questa foto tra l'altro dovremmo avere anche alcune immagini proprio di questo video che abbiamo trovato su YouTube magari dopo vediamo se riusciamo a recuperarle ci fermiamo un attimo in attesa di andare da Davide Zanirato per vedere appunto questi tartufi ci fermiamo e apriamo una parentesi per il collegamento telefonico con il direttore della vita cattolica Roberto Pensa buongiorno Roberto buongiorno a te e a tutti i telespettatori vita cattolica oggi in edicola prima abbiamo già anticipato l'intervista a mister del neri che vediamo pubblicata nell'edizione della vita cattolica in edicola oggi abbiamo sgarfato abbiamo letto il titolo nella vita privata di mister del neri Roberto invece gli altri temi importanti e trattati questa settimana quali sono? allora c'è un diciamo un evento nel senso che per la prima volta dalla vicenda di Eluana Inglaro siamo riusciti a mettere insieme nello stesso studio diciamo un po' le due anime del mondo cattolico che in quell'occasione diciamo si sono confrontate anche abbastanza spramente vale a dire il Don Pierluigi di Piazza che in quella vicenda diciamo ha appoggiato la scelta di Beppino Inglaro insomma della famiglia che ha portato appunto all'epilogo dell'esistenza di Eluana e poi il professor Gianluigi Gigli appunto che invece attualmente appunto è parlamentare e anche presidente del Movimento Italiano per la Vita che invece aveva in quell'occasione sottolineato appunto la sua contrarietà sia come come medico che come insomma cittadino cattolico a quell'epilogo il confronto l'abbiamo organizzato perché come sanno i tre spettatori molto presto il Parlamento sarà chiamato a discutere di una nuova legge che riguarda appunto il fine vita quindi la possibilità anche non solo di fare una dichiarazione anticipata di trattamento cioè che ognuno possa dire a quali cure vuole essere sottoposto nel caso in cui appunto perda la coscienza a causa di una malattia terminale oppure anche di un evento traumatico ma si parla di proposte che introdurrebbero delle vere e proprie forme di eutanasia e quindi chiaramente un dibattito etico molto importante per il Paese e c'è questo confronto diciamo davvero molto interessante perché mette un po' a fuoco tutti gli elementi diciamo di questa tematica e lo fa appunto sotto due punti di vista diversi e comunque molto profondi e molto sentiti vediamo infatti i titoli Roberto l'eutanasia sarà legale confronto sul fine vita tra Gigli e Di Piazza questo forse l'argomento più importante l'apertura anche della vita cattolica di questa settimana cosa troviamo anche Roberto sulla vita cattolica notizia molto importante per Udine che penso farà anche discutere perché quando si parla di riprofughi naturalmente c'è sempre un grande dibattito e la notizia è che con l'inizio dell'avvento la carità sbiocesana anche perché ormai si avvicina all'inverno e quindi le persone che non hanno trovato diciamo riparo nella caserma carcerani o nelle altre strutture che sono aperte chiaramente avrebbero molta difficoltà a trovare un riparo Aria sta per riaprire il dormitorio che già l'anno scorso nell'anno scorso era stato attivo in via Marangoni e la notizia è anche che si ampliranno dei spazi di accoglienza anche nella parrocchia del tempio del tempio è un segno che anche la Chiesa pone per questo evento per la traduzione al Natale di attenzione appunto anche ai poveri non solo diciamo ai propoli ma anche a diverse persone che per tanti motivi non hanno un tetto sotto il quale stare quindi c'è questa importante iniziativa della carità sbiocesana anche sugli altri quotidiani dicola oggi abbiamo letto appunto che anche negli ultimi giorni ci sono stati nuovi dormitori improvvisati da questi migranti e poi Roberto per chiudere ricordiamo appunto l'intervista a Gigi Del Neri prima abbiamo mostrato il richiamo in prima pagina ecco adesso tutta l'intervista mister ti abbiamo sgarfato non posso fare a meno di parlare la mia lingua madre mi viene naturale esprimermi in friulano non solo con i miei amici di Aquileia sgarfare mi è venuto dal cuore ci vedo chi sgarfa cioè il friulano sempre abituato a lavorare ad applicarsi molto a faticare qualche parola in marilenghe la uso anche con i giocatori a cui prima o poi insegnerò a dire mandi spiegando però per bene il significato di questo termine per noi friulani questa è una piccola anticipazione vi invitiamo dunque a leggere tutta l'intervista bella lunga sulla vita cattolica in edicola questa settimana ringraziamo anche il direttore Roberto Pensa grazie Roberto grazie a te grazie a te alla prossima ci sentiamo la prossima settimana adesso siamo pronti Monica per tornare a Muzzana dove David dovrebbe mostrarci finalmente dal vivo alcuni di questi tartuffi mentre preparano e mettono appunto il collegamento vittorino rimettiamo la parte del sito dell'associazione programma tori tartufi punto it in cui c'è il programma di questo evento del fine settimana eccolo qua si comincia come abbiamo visto sabato 26 novembre quindi questo sabato con l'apertura degli stand poi l'asta del tartufo alle 17 e poi domenica ancora stand aperti la possibilità anche di un'escursione nel bosco proprio alla ricerca di questi tartufi David li avete trovati questi tartufi ce li mostri li vediamo si eccoli qua Angela ci siamo spostati a casa dei nostri amici Daniele e Giovanni perché eccolo qua lo splendido tartufo bianco di Muzzana Daniele avvicinati qua e raccontaci allora questo è l'ultimo raccolto giusto l'ho raccolto ieri ieri l'ho raccolto nei boschi di Muzzana ecco nell'altro bosco non dove siamo stati oggi nel bosco cosiddetto coda ecco l'ho trovato ieri questo ancora è ancora sporco e quello là invece è già pulito ecco quelli là sono tartufi che li abbiamo trovati i giorni scorsi io e mio fratello ecco questo comunque l'ho trovato ieri ecco è una bella dimensione sì 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 è una pezzatura di 55 grammi penso grossomodo mentre qua nel mezzo abbiamo questo barattolo con le uova cosa serve? ecco serve questo sono le uova nostre delle nostre galine qua le conserviamo due tre giorni con il tartufo pulito e l'uovo prende il sapore del tartufo infatti sentiamo un profumo incredibile in diretta incredibile incredibile davvero lo facciamo assaggiare annudare anche il nostro Fabio Di Bernardo mentre continuiamo a spiegare qui c'è anche un panetto di burro col tartufo giusto? ecco vediamo qua abbiamo scritto 19 dell'11 la data di confezionamento 20 grammi di tartufo e 80 di burro G vuol dire il gallo che siamo noi questi qua un piatto di tagliolini per 4 si combina sì 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 con questa confezione un piatto 4 piatti di tagliolini ecco il tartufo non è che tu lo trovi sempre queste belle pezzature puoi trovare delle pezzature molto piccole o vengono rotte dal cane quando lo scava oppure con la vanga da noi cercatori quindi questi pezzi piccoli qui di piccole dimensioni noi li recuperiamo dopo averli lavati puliti li maciniamo e facciamo un impasto con il burro lo confezioniamo sottovuoto sottovuoto e congelato perché lo ricordavamo il periodo di raccolta va dai primi di ottobre sino a fine anno però appunto per avere una durata anche per le settimane successive occorre metterlo via sì anche perché noi faremo sabato domenica la festa abbiamo incominciato a mettere via questo prodotto dai primi di ottobre e lo metti via solo se lo metti sottovuoto è congelato anche perché sappiamo che una festa è sempre più ricercata e quindi la gente continua ad arrivare anno dopo anno sempre di più a noi pare di sì pare di sì almeno c'è molto interesse ecco c'è molto interesse per questa festa e vediamo che ogni anno tempo permettendo e speriamo che il tempo ci dia una mano no? la gente partecipa a questa festa e viene a a trovarci a trovarci e a saporare grazie grazie veramente ai nostri amici di Muzzana i cercatori di Tartufi Giovanni e Daniele a voi studio grazie allora anche a Davide Zanirato per quest'ultimo collegamento ci ha sorpreso questo fatto delle uova adesso abbiamo capito perché uova scroccone dal sito dell'associazione che meraviglia abbiamo del tartufo e così noi possiamo fare una bella frittata al tartufo senza avere il tartufo più o meno insomma meglio all'occhio di bue quindi assolutamente deve rimanere morbido il più possibile che fame abbiamo scoperto questa cosa delle uova scroccone il perché delle uova scroccone siamo in chiusura siamo già in ritardo Angela per cui non c'è ve lo apro molto velocemente proprio TG Cam 24 scioperano i piloti Lufthansa 100.000 passeggeri a terra e poi in Emilia Romagna il caso di Maleggia regionale che prevede niente asilo senza vaccinazioni e polemica questo tra le principali notizie solo per completare anche traffico di droga 45 arresti a Milano lo ricordiamo e Generali conferma il target al 2018 pagherà 5 miliardi di dividenti tra questi tra i principali aggiornamenti adesso ci tocca chiudere perché siamo in ritardo eh sì siamo in ritardo dunque grazie al nostro ospite Vittorino Gallo per essere stato con noi oggi eh buona giornata buon lavoro anche questo fine settimana perché forse per voi sarà un fine settimana di lavoro intenso per questa trifola in fiesta e grazie a Monica Nardini a domani grazie anche a Davide Zanirato e Fabio Di Bernardo in esterna Francesco Snidero e Alberto Tonizzo in regia grazie a tutti voi che ci avete seguito anche quest'oggi e vi ricordiamo l'appuntamento di domani sempre puntuali alle sette per la segna stampa e poi domani parleremo di Cormons Libri saremo in diretta da Cormons per parlare di questo evento di questa manifestazione grazie ancora e buongiorno Friuli e buongiorno Friuli